E invitiamo Giovanni D'Alessandro, pittore, conoscitore profondo per la literatura di Osasso. Lui, per gli anni di tornare i primi generati, ha un supermercato per questo libro che è una persona fantastica. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Perché sono tutto matro. Perché la letteratura è questa gioia e l'avete sentito negli interventi che abbiamo ricevuto, il da è il modico, il motivo per tutto per il frutto e l'amore sostanzialmente questo è quello che serve nel mondo nell'evento santifico, amore per la terra, amore per ciò che è in umanità, amore per la scrittura, amore per la riflessione, appartenenza, identità, tutto. E allora, io non ho da fare il discorso, sono solo l'atore di una lettera, perché vedete, un festival è il prodotto di persone, persone che si impegnano perché ci credono. Dietro le quinte è fatta di grande fatica, è fatta anche di delusione, di strassi, ma anche di gioie tenessie, come quella di una figlia a sua mare. Le parole non sono mie, io le leggo solamente, ma la persona protagonista di queste parole è lei, Patrizia Di Leonardo, che si è spesa tantissimo, veramente, veramente, tanto. Scusatemi, questo però credo che davvero fosse giusto, rientriamo veramente dei contenuti, le cose, non solo manifestazioni così, con muri, con mura, con manifesti, con cose molto belle, lucicanti, con bambini e l'amore. E questo è un messaggio che una figlia scrive alla madre, perché lei non è solo la presidente del festival, è una madre, è una donna straordinaria, è una famiglia di ammigliosi. Essere qui oggi, cara mamma, è molto di più di quello che gli altri possono leggere, tradurre, interpretare. Le nostre solemani sanno con quanta forza e coraggio si deve lottare per un sogno, conosciamo bene il sapore di una lunga strada, il sapore amare di una lunga strada, e quanto abbiamo sognato nelle notti di un inverno troppo lungo l'arrivo di questa stupenda primavera. Queste sono le cose che vorrei dirti oggi, ma la più vera, mamma, è che sono figlia di te. Grazie, grazie, grazie. Grazie Posso fare pure io una foto con queste belle donne? Perché questa è un'occasione anche per attracciare le belle donne. Grazie Enzo, vai via, sei maschio e voglio donne. Grazie 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 a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie 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 a tutti Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. 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 , , , a tutti.